Roberta Stocchi di Bancasella, come si è evoluto il modello di servizio di contact center di Bancasella negli ultimi anni? La nostra evoluzione la si può sintetizzare in due parole, innovazione e consulenza. Su fronte dell'innovazione ci siamo concentrati per far evolvere i nostri strumenti per semplificare la vita alle persone e semplificare la vita nelle persone anche al nostro stesso team. Siamo passati al cloud, aspetto che ha portato sicuramente dei grandissimi benefici come customer care anche sul fronte dell'efficienza. Abbiamo costruito sempre più ponti per collegare i nostri clienti all'interno dei canali in cui vivono il rapporto con la banca, implementando soluzioni che li portino ad avvicinarsi a noi e quindi entrare in contatto con noi nel modo più semplice e immediato possibile. Abbiamo anche investito nell'intelligenza artificiale nel nostro assistente virtuale per far sì che possa diventare sempre più bravo e capace di comprendere le esigenze dei clienti e rispondere efficacemente a H24 7 giorni su 7. Dall'altro lato ovviamente abbiamo le persone che sono il nostro asset strategico e fondamentale, quindi abbiamo lavorato sulle competenze dei nostri operatori per accompagnarli sempre più a interpretare un ruolo che non è solo quello dell'operatore ma quello del consulente vero e proprio. Noi come customer care facciamo parte della rete commerciale e questo ruolo lo interpretiamo, vogliamo interpretarlo sempre più a pieno e quindi le nostre persone sono le agenti di cambiamento e quindi in grado di poter ascoltare il cliente, di poterlo accompagnare all'interno dei suoi bisogni e quindi risolvere le sue istanze ma al tempo stesso in grado di poterli ascoltare ed affiancarsi proattivamente a quello che è l'operato delle succursali, dei canali digitali. Altro aspetto determinante è l'ascolto della voce del cliente, quindi le nostre persone ascoltano i clienti e portano le istanze all'interno della banca per poter sviluppare e collaborare attivamente nello sviluppo dei progetti in modo da avere sempre il cliente al tavolo. In sintesi la nostra evoluzione appunto vede nella tecnologia un asset estremamente fondamentale, un alleato potentissimo ma valorizza le persone, la loro crescita e il loro contributo nella consapevolezza che siano loro il vero fattore distintivo e differenziante.